Ciao a tutti, questo è uno short, come potete vedere c'è Dudu sopra la casetta Vai giù, Dudu Eccolo che sta scendendo Comunque, se volete sapere perché scagliono sulla casetta e cose Andate a vedere il video che l'ho fatto Insomma, questo è uno short Comunque perché era salito sulla casetta Poi, un'altra cosa In un video vi dico anche perché, insomma, come potrebbe farci male Se potrebbe farci male alla femmina quando intinta accoppiarsi Il maschio se si accoppia Va bene, è tutto Iscrivetevi al canale Io vi saluto Ciao a tutti